Stavo pensando che ero comodissimo qua, mi stavo rilassando, però in realtà è arrivato un momento importante, cioè quello di una nuova puntata dal Banana Quiz. Il regolamento è semplice, 10 domande a disposizione. Il concorrente che risponde correttamente al maggior numero di domande vince la puntata e passa alla fase finale. Ogni giocatore ha due Banane Vita a disposizione che gli permetteranno di non rispondere o di sbagliare la risposta. Dentro l'urna, in mezzo a centinaia di domande, ci sono una banana. Chi la trova passerà automaticamente alla finale. Una scimmia che ti elimina immediatamente. Come ti chiami? Cristian. E dove sei? Di Casteggio. Quanti anni hai? 20. Ok, perfetto. Allora, è arrivato il momento di giocare. Qual è la capitale dell'Afghanistan? 10 secondi, vai. Kabul. Perfetto, è Kabul. Quante volte il tennista svedese Bjorn Borg ha vinto il torneo di Wimbledon? Vai, 10 secondi. 4. 4, 4, no, per uno sono 5 e la prima volta è stata nel 1976. Come si chiama la madre di Lucia dei Promessi Sposi? 10 secondi, vai. Agnese. Esatto, ma sei bravissimo. Che specie d'insetto è la falena? Vai, 10 secondi. Volatile. Volatile, ok. Vediamo un pochino. In realtà la falena è un insetto che appartiene all'ordine dei Lepidotteri. Era difficile questo? Direi di sì. Che cosa è Scar per Simba? Nel cartone animato Il Re Leone? 10 secondi. Padre? Tu hai risposto padre, vediamo un attimino. La risposta corretta invece è lo zio paterno. Quindi niente, sei stato eliminato, però grazie mille per aver partecipato. Magari sei quello che ha risposto a più domande corrette e quindi puoi accedere direttamente alla finale. Come ti chiami? Giuseppe Masso. Di dove sei? Di Casai Giarola. Quanti anni hai? Non mi ricordo, 21. Ok, perfetto, va benissimo. Vai, prima domanda, estraiamo. Vediamo un po'. No. Di quale stato è la capitale Copenaghen? 10 secondi da ora via. Di quale stato? Assolutamente sì. Città di Copenaghen, Danimarca. Ma lo sei lo detto. No, l'ha detto prima tu. Ok, niente suggerimenti, niente suggerimenti. Ok, prima domanda giusta, vai con la prossima estrazione. La banana, la banana. No, mi sa proprio di no che non è la banana. È vero o falso che la sorella di Beyoncé, Solange Knowles, ha recentemente malmenato in un ascensore il marito di Beyoncé, ovvero Jay-Z. È vero! Ma neanche 10 secondi servono. Come era chiamato nel calendario romano il primo giorno del mese. 10 secondi da ora via. Eh, non lo so. Prova a pensarci. Primo. 9 secondi. Niente, no, niente. Banana vita. Non lo so com'è che era la risposta. Era calende. Calende. Tu lo sapevi la calende. La calende. No, la calende. L'ha studiato lei. Il mirto. Sì. È un liquore tipico di quale regione? Sardegna. Ma è fantastico, Sardegna. Vai. Guardi la televisione. Abbastanza. Ok, vediamo se guardi questo programma. Quale corteggiatrice scelse Emanuele Trimarchi nel programma Uomini e Donne? 10 secondi via. Belen, non lo so. Belen, sì. No, la corteggiatrice è Anna Munafo. Eh, sì, lo sapevo. Qual è il nome della mossa principale di Goku via... Londra energetica. Ma le sai tutte. Cioè, io è da 10 anni che guardo Dragon Ball. In quale strumento d'orientamento si trova l'ago magnetico? Quale strumento di orientamento? Ma la bussola. È la bussola, bravissimo. Quale casa editrice fu la prima a pubblicare il fumetto Hellboy? 10 secondi via. Marvel. No, non è Marvel, mi dispiace, ma in realtà è la Dark House. Sì, lo sapevo, me l'han detto. Game over. Ok, perfetto. Va bene, sei stato eliminato, però magari sei il vincitore. Come ti chiami? Marco. Di dove sei? Bughera. Quanti anni hai? 23. Perfetto, andiamo con la prima estrazione. Prima domanda. Qual è il capoluogo della Toscana? Firenze. Il capoluogo della Toscana? È Firenze, bravissimo. Con chi vinse l'Italia la finale dei campionati mondiali 2006, 10 secondi da ora, via. Francia. Bravissimo, è la Francia. Vai con la terza domanda. Chi canta la canzone Mirrors, uscita nel 2013, 10 secondi da ora, via. Mirrors. Aspetta, Maroon 5. Maroon 5. Mirrors invece la canta Justin Timberlake. In che modo la matrigna e le sorellastre di Cenerentola le impediscono di recarsi con loro al ballo del principe, 10 secondi via. La risposta esatta è che le danno un sacco di faccende da sbrigare e quindi è facendola lavorare ed è corretta. Oh, bella lì. Che giocattolo è? Buds Like Tear di Toy Story, 10 secondi, via. È un personaggio che viene dallo spazio. Sì, e quindi è un... Un ranger spaziale. Bravissimo, ok, ok. È uno space ranger. Dove si trova la Valle dei Re? 10 secondi, via. La Valle dei Re? Sì. Non mai... La dobbiamo annullare perché hai ricevuto un suggerimento, mi dispiace. Banana vita persa, mi dispiace. Quante sillabe compongono un verso endecasillabo? 10 secondi, via. 10. Allora, l'endecasillabo in realtà è fatto da 11 sillabe. E quindi? Sei stato... sei stato eliminato, grazie mille. Un saluto. Ciao a tutti. Come ti chiami? Bandac Tudor. Quanti anni hai? 18. Di dove sei? Costa Vescovato, Torto One, più o meno. Ok, lì vicino, insomma. Va bene, vai con la prima domanda. Chi sono i due attori protagonisti del Colossal Titanic che vestono i panni di Rose e Jack? 10 secondi da ora, via. Leonardo DiCaprio, che è il ragazzo. E la protagonista femminile? La protagonista femminile è... Due secondi, un secondo. 10 secondi finiti, niente, era Kate Winslet, quindi perdi una banana vita, mi dispiace. Vai, seconda domanda. Di quale regione è originario il formaggio pecorino? Vai! Pecorino... Lo mangi? No, non mi piace. Che regione è? 3 secondi. Apoli. Non lo so. No, non è della campagna della Sardegna. Quale rapper canta la canzone Il Faro e Il Mare? 10 secondi, via. Che cazzo è? Ancora, 5 secondi. Non lo so. Due secondi? Marrakesh. No, è vacca, 10 secondi finiti. Mi dispiace. Hai perso, è stato eliminato, grazie mille. Non lo so, è l'ok. Non lo so, è l'ok. Come ti chiami? Gianluca. Di dove sei? Di Tortona. Quanti anni hai? 20. Io non sono qui. È un film biografico sulla vita di un musicista, il cui nome è Bob. Qual è il cognome? Milano. Sei bravissimo. Bob Dylan, esatto. Bravissimo. Ti piace il calcio? Eh, sì. Ni. Ni. Ok. Chi ha vinto il campionato di Serie A? Ben 11 anni fa nel 2003. Via. La Lazio. Allora, nel 2003 il campionato venne vinto dalla stessa squadra che l'ha vinto quest'anno, ovvero la Juventus. Lei Juventina, qua ci sono un po' di Juventini. Ti sei giocato una banana vita, ma ne è ancora un'altra, oltre che quella che è nel Taschino. Che figata. È vero o falso che Fedez ha pubblicato un video intitolato Babbo Natale mi ha detto che i tuoi genitori non esistono. Via. È vero. Allora, la risposta esatta è proprio che è vero. Infatti, questo è accaduto nello scorso dicembre 2013. Ti pare da caso, che culo. Di quale personaggio è più geloso Woody di Toy Story? Via. Buzz Lightyear. Sei bravissimo. Ti piace anche Toy Story. Culo, ma mica, è l'unico che conoscevo. No. Qual è il nome del commissario Montalbano? Via. Montalbano. Antonio Montalbano. No, invece, sai come si chiama Montalbano? Si chiama Salvo. Salvo Montalbano. Lo guarda il commissario Montalbano? Lo guardavo, ma dicevo solo, sono Montalbano lì. Montalbano sono? Sì, e basta, non diceva Salvo. Facci Montalbano? Non ce la faccio. Non sei un bravo imitatore. No, non sono tanto bravo, però me la cavo qualche volta. Vabbè, un'altra cosa che scriviamo, chiudiamo. Vai, vai, vai. Qual è il nome del più prestigioso e antico evento nello sport del tennis? 10 secondi, via. Oh, quasi. È Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon è uno stadio di Londra. Eh già. Game over. Niente, è stato eliminato. Grazie mille per aver partecipato. Grazie. Ciao, grazie. Bellissimo. Ciao, benvenuto. Come ti chiami? Enrico. Di dove sei? Vogela. Quanti anni hai? 32. La McDonald's Corporation, quindi il Mac, è la maggior catena di ristoranti. Grazie, ve l'avevo detto. La McDonald's Corporation sembra una roba. Aperto il primo ristorante in Italia in quale città? 10 secondi, via. Milano. Non è Milano, ma è un po' più al nord, ancora al più al nord di Milano, perché è il primo ristorante McDonald's. È stato aperto in Trentino Alto Adige, ovvero a Bolzano. Non lo sapevo. Ok. Ci vai al McDonald's a mangiare? No. No, non ti piace? Probabilmente no. Probabilmente una pizza. Meglio la pizza. Vai con la seconda estrazione. Il perone è un osso situato in quale parte del corpo? Il perone dovrebbe essere sotto, dalle parti delle gambe, che è posto lì. La gamba, esatto, perfetto, bravissimo. Ti ricordi in quale anno è morto Michael Jackson? Via. No, non mi ricordo, sinceramente. Prova, spara, magari indovini. Allora, Michael Jackson sarà morto nel 2007. No, due anni dopo. Era il 2009 quando morì Michael Jackson. E allora perdi anche la seconda banana vita, però puoi andare avanti a giocare, però non puoi più sbagliare. È vero o falso che Francesco Monte è stato un corteggiatore di uomini e donne? Vero o falso? Non so neanche chi è. Spara. Sì. È vero, esatto, puoi andare avanti, potresti vincere. L'Iliade è un poema epico, caposaldo della letteratura greca e occidentale. Chi è stato l'autore dell'Iliade? Via. L'ho scritta, non lo dire, non me lo suggerire, l'ho scritta Dante. Allora, l'autore dell'Iliade non era Dante ma era Omero. Omero, è vero, è vero, Omero. Zero banana vita, sei eliminato, grazie mille. Grazie a te, ciao. È arrivato il momento di scoprire il vincitore di questa puntata del Banana Quiz. Vince e passa direttamente alla fase finale. Giuseppe, l'appuntamento per la nuova puntata del Banana Quiz è tra sette giorni. Se volete partecipare al gioco ci trovate ogni sabato sera al Banana Disco Summer presso il Clubhouse di Salice Terme in provincia di Pavia. Grazie a te, ciao.